Sono commoventi le immagini che ritraggono il momento della liberazione dell'Aerone che nei giorni scorsi era stato messo in salvo da un cittadino a San Pietro Altanagro. L'uomo aveva portato il giovane esemplare di Aerone nel suo giardino e poi allertato i carabinieri. Questi ultimi a loro volta hanno contattato il servizio veterinario dell'ASL di Salerno. Il veterinario dell'ASL, il dottore Adriano Pacini, giunto sul posto, ha constatato che l'Aerone aveva riportato alcune ferite. Per questo motivo ha disposto che venisse trasferito al CRAS di Napoli, che è un centro di recupero di fauna selvatica. Qui i veterinari si sono presi cura del giovane Aerone fino a quando è stato liberato nel territorio di Persano, nei pressi di uno specchio d'acqua. L'animale, dopo essere uscito da una scatola nella quale era stato trasportato, si è immerso subito nelle acque nuotando con tranquillità ed assaporando le prime ore della sua ritrovata libertà.